del Partito Democratico, no così per dire, ha capito dove stanno. Non ne ho più di quelle che avete voi, insomma cerco di riflettere sulle notizie che vedo e sono sempre più convinta di quello che ho detto il giorno dopo le elezioni. Lei disse che si dovrebbe sciogliere. No, deve andare oltre se stesso, deve decidersi a fare affondare la sinistra in questo Paese perché questa era la sua vocazione originaria, questa l'ha tradita perché c'è stata l'opera renziana sulla quale non è mai stata fatta la riflessione che doveva essere fatta, mai si è liberato da questa vicenda. E adesso oltre a Renzi c'è Calenda e c'è pure Conte, quindi diciamo la situazione si è complicata. L'ultimissima domanda ne faccio. Non apprezzo neanche il comportamento di Conte, di quello di Calenda me ne importa meno, ma di Conte non lo apprezzo perché credo che sarebbe interesse anche del Movimento 5 Stelle ad operarsi per aprire un cantiere per rifondare una sinistra plurale in questo Paese. Se lei vivesse in Lombardia voterebbe per Letizia Moratti? Sì o no? Guardi, se il PD in Lombardia appoggia la Letizia Moratti, prendo la tessera del PD per strapparla. Qui in diretta a Tagadà ovviamente. In diretta a Tagadà se le faccio questo regalo. Era un no mi pare, no? Sì, era un no, non era chiarissimo. Vede, siccome nella vita mi sono occupata di poche cose, ma quelle le ho fatte seriamente, non so se è bene o male, ma ci ho messo all'impegno, la riforma sanitaria della Moratti è una riforma che è l'opposto di quella che ha fatto Tina Anselmi nel 1978 e che sommessamente avevo provato a riattivare... Noi ce lo ricordiamo, chissà se ce lo ricordano nel Partito Democratico. Senta Bindi, è sempre un piacere, mi sa che ci dobbiamo vedere più spesso però, perché mi piacciono le sue valutazioni così, ripeto, quel dico non dico. Ci vediamo presto, grazie per essere qui, grazie davvero. Fra poco torniamo.